Come ben dice Dino Provenzano, in alcuni paesi d'Italia c'è ancora il banditore, ma tende a scomparire. È un tale che si ferma in una piazza, in una strada molto frequentata o più spesso a un crocicchio e dà fiato alla tromba. Dopo due o tre squilli da squarciargli orecchi, grida l'annuncio. Stasera al Teatro Apollo si rappresenta un bellissimo filme. Il signor tale, scusate, il signor cavalier tale, ha smarrito l'orologio e promette una ricca manza a chi lo riporterà. L'unico di venturo si aprirà una nuova trattoria con giardino e gioco delle bocce. Cugino di primordine, vini eccellenti, presti modici. Questa sera riflessi sul lago, pochi minuti di luce d'ombre, musica superba. Una gita festosa, stupenda, ma chissà perché, forse troppa malinconia. L'unico di venturo si aprirà una nuova trattoria, ma chissà perché, forse troppa malinconia. Questa sera riflessi sul lago, pochi minuti di luce, la città perché, forse troppa malinconia. Questa sera riflessi sul lago, pochi minuti di luce, ma chissà perché, forse troppa malinconia. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.